La vostra guida vi mostra che il vapore che avete condensato attraverso la corona ora diventa un meraviglioso raggio di luce. Mentre vi avvicinate a questo raggio, attraverso la corona, entrate in un bozzolo sempre guidati e protetti dalla vostra guida. All'interno di questo bozzolo siete trattenuti in modo delicato e tenero, come se fosse avvolti in un velo soffice e cristallino. Il battito di un cuore sempre presente segna il tempo mentre diventate una crisalide nel vostro grembo di seta. Quando vi avvicinate allo stadio finale della metamorfosi potete vedere dei riflessi di tremuli luci colorate che sono lo splendore del vostro io contro le fibre cristalline del bozzolo e che forniscono l'opportunità di intravedere la vostra bellezza interiore. C'è un passaggio di energia quando questo fulgore colpisce le fibre del bozzolo. L'energia rimbalza e rispecchia la creazione divina che siete voi, ricodificandola letteralmente attraverso l'autostima. Godete e beatemi di questa radiosità e di questa vivacità di colori che penetrano nell'oscurità del vostro bozzolo. Le pareti del bozzolo iniziano a disintegrarsi. Mentre cadono iniziate a dispiegare le vostre ali. È un processo lento perché siete bagnati e avete bisogno di tempo per asciugarvi. Spalancate le vostre braccia e sentite dispiegarsi le vostre ali dai colori vivaci. Sono squisite. Percepite in esse l'energia e compiacetevi dei loro movimenti colorati. Godete dell'euforia quando le vostre catene sono spezzate e vi abbandonate al volo. Siate una magnifica farfalla. Questa forma sta sempre con voi. Ora prendetevi un po' di tempo per sperimentare il vostro volo, mentre danzate nella luce del sole come un fiore volante. Quando siete pronti, avvolgete le vostre ali di farfalla intorno al corpo e rientrate nuovamente nella forma umana, portando con voi lo splendore della vostra bella farfalla. Prendetevi qualche istante per condividere la vostra esperienza con la vostra guida. La vostra guida vi assicurerà nel ritorno alla vostra consapevolezza abituale. Centratevi e radicatevi e quando siete pronti, aprite gli occhi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS